Presso il centro della comunità Giovanni Paolo II di Lucera è stata ospitata la seconda tappa del meeting regionale di Missio Giovanni Puglia, ad accogliere i ragazzi provenienti da varie parti della regione e componenti del centro missionario diocesano guidato da Don Vincenzo Onorato. I meeting regionali 2018-2019 si sono incentrati sull'esortazione Siate Pellegrini sulla strada dei vostri sogni, per invitare i giovani a credere nei propri sogni, spronare a realizzarli e creare un mondo migliore senza farsi scoraggiare dalle difficoltà di oggi. In questa seconda tappa in particolare è stato trattato il tema della giustizia. Dopo l'intervento di formazione di Giovanni Rocca, segretario nazionale di Missio Giovanni, si è vissuto un momento dedicato alle testimonianze. Tra esse quella di Sasi Spinelli, referente provinciale di Libera contro le mafie. Il meeting è proseguito con la celebrazione eucaristica, i laboratori e la condivisione delle riflessioni da essi scaturite. Incontri che arricchiscono i giovani che scelgono la missione, partendo dalle loro realtà per raggiungere la mondialità sulle orme di Gesù.